Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città di Torino al nostro secondo appuntamento quotidiano con le notizie dal web della città. Vi ricordo che siamo come al solito in diretta in questo momento sul nostro canale Ustream, saremo poi disponibili a partire dalle 17 circa anche sul nostro canale YouTube. Come al solito in sovrimpressione state vedendo gli indirizzi per poterci raggiungere. Cominciamo con la viabilità perché oggi è una giornata particolarmente delicata, come probabilmente avete già avuto modo di sapere leggendola anche sulla nostra home page, è in corso, anzi comincerà intorno alle 17.45, uno sciopero di circa 4 ore indetto dalle segreterie, vi mostro in questo momento la notizia dal nostro web della città, le segreterie CubeRDB hanno indetto uno sciopero, uno sciopero che è già stato in atto per quanto riguarda le autolinee extraurbane, le linee 43, 46B e 19 del servizio urbano, si è verificato questa mattina anche per quanto riguarda le ferrovie, mentre invece comincerà alle 17.45 fino alle 21.45 per le linee urbane e suburbane, tranne il 43, il 46 barrato e il 19 e per la metropolitana. Quindi per chi dovesse avere bisogno dei mezzi pubblici dopo le 17.45, prudenza, attenzione perché è possibile incappare nello sciopero. Altre notizie di viabilità per quanto riguarda quest'oggi, abbiamo un divieto di transito nel controviale nord di Corso Regina Margherita tra via Guastalla e via Borelli, vi ricordo che questa notte come al solito dal 1 alle 3 chiuderà il sottopasso di Corso Regina Margherita, quello di Portapalazzo, per le tradizionali operazioni di pulizia meccanizzata e poi vi ricordo il divieto di transito in via Viotti, scusate, tra via Bertola e via Monte di Pietà perché ci sono dei lavori edili con una piattaforma aerea. In semafori in manutenzione per la giornata di oggi sono via Nizza, angolo Corso Spezia, ormai questo lo conosciamo, corso 11 febbraio all'altezza del ponte sulla Dora, via Villa della Regina, angolo via Moncalvo e questi tre saranno in manutenzione anche domani e per oggi ancora quello in via Madama Cristina, angolo Corso Marconi. Vi ricordo comunque che tutte le notizie di viabilità le potete trovare sul sito dei Vigili Urbani anche in formato testuale nella sezione ultimo minuto e potete stamparle, portarle con voi oppure riceverle gratuitamente via email. Andiamo a vedere però adesso la situazione del tempo in città con la rilevazione dell'ARPA Piemonte sulla nostra home page, una rilevazione delle 15 circa, abbiamo un cielo sereno, una temperatura di poco superiore ai 20 gradi e un'umidità del 57% con un vento che si è alzato leggermente rispetto a questa mattina, questo ci porta comunque a mantenere le previsioni di questa mattina anche per la notte e la mattina di domani con un cielo sostanzialmente poco nuvoloso. Siamo però in collegamento con Torino Click, l'agenzia quotidiana della città di Torino, sentiamo Mauro Marras dalla redazione con gli anticipazioni sul numero in uscita questa sera. Mauro? Sì, buongiorno a tutti, oggi parleremo dei prezzi, abbiamo il settore statistica del Comune, ha effettuato la mensile rilevazione dei prezzi del consumo e c'è una buona notizia, l'inflazione scesa dello 0,5% ma comunque si mantiene a livello annuale attorno al 4% e quindi è ancora abbastanza, continua a incidere pesantemente sulle nostre tasche. Poi parleremo della mostra evento fatti di design che sarà presentata alla stampa martedì, martedì 7 ottobre, è una mostra che presenta 10 prototipi, 10 modelli unici realizzati da Giugiaro in tutta la storia della sua azienda. Infine parleremo di anticipazioni su Contemporary Art, la rassegna che si tiene a novembre a Torino sull'arte contemporanea, parlando della parte che riguarda il cinema e soprattutto dell'evento Cine Show che è uno salone tecnico del cinema che si terrà per la prima volta a Torino. Grazie Mauro, allora vi ricordo che come al solito tutte queste notizie le potrete trovare nel numero di Torino Click in uscita questa sera all'indirizzo che vedete ora in sovrimpressione e anche a partire dalla nostra home page. Home page che andiamo a vedere adesso per le notizie dal web della città, vi segnalo una notizia sempre in qualche modo legata alla viabilità perché riguarda la viabilità ciclabile. Infatti sabato 4 ottobre alle 17 circa sarà inaugurata la nuova passerella, la nuova pista ciclopedonale che collega i ponti Balbis e Isabella, i ponti sul Po. Sarà inaugurata al Parco Caduti dei Lager Nazisti in Corso Moncalieri 88 alla presenza del sindaco. Troverete a partire dalla notizia maggiori dettagli sull'opera che è stata realizzata. Nella stessa notizia vedete che è citata anche la nuova passerella ciclopedonale sulla Dora all'altezza di Corso Verona che sta per essere realizzata. Anche qui avrete maggiori dettagli all'interno del pieghevole informativo collegato dalla notizia. Un ultimo sguardo alla città lo diamo con le nostre webcam come al solito. Allora iniziamo da Piazza Palazzo di Città. Questa è la situazione della piazza ripresa in diretta dalla nostra webcam. Passiamo poi alla rotonda autostrade verso la Torino Milano dove vedete come stamattina c'è un po' di traffico soprattutto come ovvio vista allora in uscita dalla città. Con la webcam della regione Piemonte andiamo ora a vedere un'inquadratura di Piazza Castello con la webcam che punta verso l'inizio di via Roma, alcune macchine vedete al semaforo e infine con il consorzio 5T ci spostiamo in Piazza Derna direzione centro città. Vedete qui una situazione opposta rispetto a quella di stamattina. La rotonda è pressoché deserta quindi non ci sono problemi per quanto riguarda la circolazione. Bene siamo tornati in diretta soltanto per darci l'appuntamento a domani alle 9.15 domani mattina la nostra prima edizione. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e una felice serata. Grazie a tutti.